Siamo orgogliosi della prestazione che abbiamo messo oggi in campo. Devo dire che ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi. Non era semplice, venivamo da una settimana difficile per varie dinamiche, ma devo dire solo grazie a questa squadra che ha mostrato disponibilità. In soli tre allenamenti abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. Sono contento per questa vittoria che è arrivata, sofferta, anche se le due reti che abbiamo subito le abbiamo subito solo su due palle inattive. Però va bene così. Credo e sono convinto che abbiamo fatto un primo tempo abbastanza brillante, poi è normale che un po' la condizione è calata. La Reggiana quando ha trovato il gol ha trovato un po' di fiducia, però siamo stati bravi a non mollare. Anche i cambi sono stati decisivi, hanno portato grande energia e grande equilibrio in un momento della gara delicato. L'importanza è il mio ruolo, io sono un uomo della società, giovedì la società mi ha chiamato per dare una mano, mi sono messo a disposizione per la società, per la squadra, per i ragazzi, per il gruppo, per la città. Quindi io cerco di dare il massimo. Rimango a disposizione della società, cercherò di svolgere al meglio il mio lavoro e poi con tranquillità tornerò al mio posto, ma con la consapevolezza di avere dato tutto, tre giorni, una settimana, quello che sarà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.